Ciao ragazze, nuovo video, video in collaborazione con Roberta qua su Youtube Romaro, un bacione ed è il video mensile in collaborazione sui top e flop del mese allora, non ho tantissimi top né tantissimi flop semplicemente perché questo mese sono stata un pochettino pigra quindi ho fatto ben poco, mi sono truccata pochissimo e quel poco che mi sono truccata ho usato sempre la solita palette quindi non ho tanti top e nemmeno tanti flop però queste 5 cosettine ve le voglio mostrare comunque e ve ne voglio parlare allora, iniziamo con l'unico flop l'unico flop è questo smaltino qui di Pupa che è il numero 58 perché fra i flop, colore bellissimo il problema è che sono stata sfigata io probabilmente perché tutti gli altri smalti Pupa che ho, quasi tutti, sono fantastici questo per niente vi spiego perché questo è della collezione Lasting Color Gel io ho anche altri smalti sempre della stessa linea si asciugavano velocissimamente italiano velocissimamente, non lo so comunque molto veloci non lasciavano le lineette sono facili da stendere, tutto questo no visto così non si direbbe che ha problemi di pennello perché non ha setole che vanno di qua e di là però comunque sulla mia unghia lascia i segni lascia le righe come vi dicevo come se il colore non fosse omogeneo una passata, vabbè diamogli la seconda quella seconda a volte diventa non sempre non su tutte le unghie ma su alcune diventa ancora peggio perché vedi proprio il colore scuro in un punto il colore chiaro in una parte perché da un'altra parte non colora bene non so neanche io come spiegarvi il problema che ha questo smalto spero che mi abbiate capita poi altro problema che al contrario degli altri questo qua non mi si asciuga cioè ci mette un secolo ad asciugare cioè io quando l'ho utilizzato io di solito lo smalto me lo metto la sera prima di andare a dormire cioè nel senso mi strucco mi lavo mi metto il pigiama mi metto lo smalto e nel frattempo sto lì a guardarmi un film che si sa durante non so quei 20-30 minuti di film sto ferma così sono sicura e non faccio altro quindi lo smalto si asciuga questo no questo no io sono andata a dormire l'ho messo come sempre dopo essermi struccata lavata e messa il pigiama mi sono messa nel letto tranquilla mi sono messa lo smalto perché lo smalto me lo metto nel letto sempre sono stata lì tranquilla finito il film quindi si parla di 40 minuti buoni comunque ovviamente il film era iniziato quando lo vi sono vi parlo delle due ore intere di film ma dopo mezz'ora tre quarti d'ora più o meno minuto più minuto meno ovviamente sono andata a dormire quindi ho spento la tv tirata su le coperte sono andata a dormire il giorno dopo lo smalto non c'era cioè era tutto rovinato perché non era ancora asciutto dopo più di mezz'ora cioè non è possibile che uno smalto non si asciughi in mezz'ora cioè un conto è se lo smalto è di quelli vecchi stravecchi che dici boh ci sta è talmente vecchio che non si asciuga più molto veloce ma questo smalto era nuovo di zecca cioè quando l'ho messo avrà avuto due giorni non è possibile che uno smalto ci metta più di mezz'ora ad asciugare no 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 nonostante io adori la pupa questo smalto no 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 mi dispiace io vi dico probabilmente sono stata sfigata io a prendere uno fallato me lo auguro però comunque adesso qui ho l'altro perché ho fatto le video prima di questo che è lo stesso presi lo stesso giorno questo qui fantastico 5 minuti asciutto una passata al colore stupendo non c'è bisogno neanche della seconda vabbè comunque sarò stata sfigata io poi passiamo ad altro altro smalto che però metto nei top qui passiamo ai top è questo smalto qui termo della Laila che è quello che io ho addosso che però non posso farvi vedere potrei farvelo vedere no non ce la faccio verrebbe un po' troppo un casino se riesco vi posto una foto a fine di questo video comunque questo fa parte della collezione Thermo Polish Effect che sono quelli che a contatto col cal col cal col cal col cal col calore cambiano colore questo qua da Bordeaux diventa rosso fuoco a contatto col calore quindi quando la mano è fredda è Bordeaux come in questo momento a contatto col calore diventa rosso proprio un rosso bello acceso avevo fatto una foto e l'avevo postata su Instagram in cui si vedeva sul fondo l'unghia che iniziava a essere Bordeaux e sopra era ancora rossa perché pian piano poi torna del suo colore e mi è piaciuto tantissimo si asciuga in due minuti e io ce l'ho su da una settimana più o meno e inizia adesso a sbecchettare su un'unghia sola quindi fantastico no due scusate su due unghiette quindi dura anche abbastanza e io non ho messo il top coat parentesi non ho il top coat sopra sono pigra non c'ho mai voglia di mettere il top coat e quindi dura parecchio anche senza top coat quindi top poi palette più utilizzata del mese forse all'inizio del video non l'ho detto ma si parla dei top di febbraio è la palette Naked che a me piace tantissimo è questa qui mi piace veramente veramente molto e l'ho utilizzata tantissimo 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 mi piace veramente tanto come penso a chiunque abbia abbia la Naked questa qua mi piace tanto l'ho presa su su de pop pagata quindi meno però fantastica veramente fantastica poi sempre per quanto riguarda il make up sto utilizzando e ho utilizzato tantissimo il primer potion questo è light shadow primer potion base non c'è il nome no eh vabbè perché ce ne sono di più di primer potion questo non so quale sia comunque mi piace tantissimo è fantastico mi fa durare il trucco tantissimo quindi assolutamente un top ha il suo scovolino così pantolastico bello 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 e questo qui me lo mandò la stessa ragazza che mi che dal quale comprava la Naked ultimo top oh mi ero dimenticato un flop vabbè dopo ve lo faccio vedere ultimo top è il come si chiama mai senza di Lush usato in passato ricomprato e riutilizzato lo adoro profumo eccellente fantastico questo è il primer che l'ho già utilizzato un bel po' però la cosa bella di questo scrub è che ne basta veramente poco perché deve essere diluito con l'acqua essendo comunque uno scrub solido essendo uno scrub solido va diluito con un pochettino d'acqua e quindi ne basta veramente poco quindi dura veramente nel tempo è fantastico una cosa eccezionale poi soglia solo il profumo è super poi ritorniamo al flop perché mi ero scordata di questo era lì non l'ho visto vabbè sono andata a riutilizzare i dischetti di cotone della Yves Rocher grazie a dio li ho quasi finiti che non mi ricordo se li avevo già messi in un video dei top e flop o in un altro video comunque ve ne parlai io con questi dischetti di cotone mi ci trovo malissimo uno perché non sono cuciti quindi vedete non essendo cuciti è un attimo che compare questo come dischetti struccanti forse sono ancora leggermente passabili per andare a rimuovere lo smalto dalle unghie no 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 uno perché vi rimando tutti i peletti sulle unghie dopo che andate a rimuovere con una schifezza e poi vi rimane in mano cioè io non riesco ad utilizzarli questi dischetti veramente faccio veramente fatica io ci do da mesi se non mi accecate magari vi posso anche accettare se mi iniziate ad accecarmi vi butto direttamente comunque a parte le mie liti con oggetti inanimati non mi piacciono non mi piacciono non riesco ad utilizzarli faccio fatica faccio veramente fatica cioè io da mesi cioè io di solito una busta così di dischetti di cotone quanti siete? 80? cioè non dico che in un mese li finisco ma in due mesi li finisco a seconda di quante volte mi metto lo smalto a seconda di che struccante uso perché io ho anche il come si chiama? questo è il mai senza quindi l'altro è il non ti scordare di me no vabbè lo struccante di lash che non servono dischetti perché vai e rimuove il trucco direttamente con le dita quindi ci sono magari quei mesi che uso meno dischetti di cotone perché appunto magari non mi strucco con lo struccante liquido ma mi strucco con quello di lash e uso meno smalti però comunque in due o tre mesi li finisco queste ce li ho da tipo sei mesi non so da quanto ce li ho cinque o sei mesi non riesco a finirli mi viene il nervoso quando vado ad utilizzarli mi viene il nervoso non mi piacciono non mi piacciono non mi piacciono non mi piacciono e niente a parte gli incidenzi di percorso spero che il video vi sia piaciuto spero di strapparvi un sorriso ogni tanto io vi mando un super 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 bacione come sempre e noi ci vediamo al prossimo video e un bacione molto speciale a Roby ciao ciao